Anche quest'anno il centro per l'udito Agropoli dà il via alle giornate della prevenzione. La prima tappa del tour sarà Agropoli il 2 febbraio in collaborazione con l'Avis comunale. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 diversi specialisti si affiancheranno per offrire visite gratuite ai cittadini. Anche grazie alla disponibilità di Don Bruno che aprirà alcune sale dell'oratorio Santa Maria delle Grazie sarà possibile per adulti e bambini richiedere consulenza in molteplici campi della medicina e non solo. Accanto alle figure del senologo, dell'odontoiatra, dell'osteopata e dell'audiometrista ci saranno infatti una nutrizionista e una psicologa. In più a un prezzo simbolico di 10-15 euro si potrà richiedere un prelievo ematico per le analisi generali e per la prevenzione femminile, pap test, osteoporosi e maschile, prostata. Nello specifico agli spazi dell'oratorio saranno affiancate due emoteche messe a disposizione dall'unità di raccolta comunale di Agropoli presieduta da Rosario Capozzolo. La molteplicità di spazi permetterà di ospitare gli specialisti in spazi distinti e dedicati alle singole visite. Nel corso della mattinata ai cittadini interessati sarà possibile richiedere una o più visite audiometrica, nutrizionistica, odontoiatrica, osteopatica, tutte gratuite. Nel pomeriggio invece proseguiranno le visite audiometriche mentre una psicologa sarà a disposizione per colloqui informativi individualizzati sul tema dell'autismo e sulla terapia multisistemica in acqua, TMA, metodo Caputo e Polito. Questa innovativa tecnica è rivolta prevalentemente ai bambini con disturbi dello spettro autistico, disturbi generalizzati dello sviluppo sindrome di Down e altre patologie similari. Per prenotare le visite e per ulteriori informazioni contattare la dottoressa Ludovica Iodice al numero 333 44 84 424. Iodice al numero 3